Concluso il giubileo della misericordia nelle diocesi del mondo, l'unica porta santa rimasta aperta è quella di San Pietro che Papa Francesco chiuderà domenica prossima. Ieri a Gela il Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignore Rosario Gisana, ha preseduto una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento nella chiesa di Sant'Agostino a pochi passi dalla piccola casa della misericordia dove aveva aperto la porta santa della misericordia. È stata l'occasione anche per inaugurare il dormitorio per le famiglie disagiate della nostra città ed il centro di spiritualità nazionale dedicato alla misericordia nei locali dell'ex convento dei padri agostiniani. Il giubileo finisce ma continua attraverso quello che è l'ordinario giubileo cioè l'assistenza ai poveri che tutti siamo chiamati a fare. Allora il frutto di questo anno sarà appunto il dormitorio così anche il centro di spiritualità nazionale della misericordia e l'adorazione eucaristica che avverrà tra un po' di tempo, il tempo che sistemiamo ecco la chiesa di San Francesco di Paola e lì sarà un centro di adorazione eucaristica permanente. Mi sembra molto importante questo momento, questo centro anche dell'adorazione perpetua perché dovrà significare un nutrimento insieme con l'ascorto della parola di Dio eucaristia, parola di Dio il nutrimento essenziale per partire con una testimonianza vera dell'Evangelo che è appunto quella del rapporto autentico con i poveri. Presente a Gela anche il cabarettista Roberto Ciufoli della premiata ditta che sábado scorso nei locali del Teatro Eschilo ha portato in scena la rappresentazione con i poveri e per i poveri. Dio aiuta e protegge chi dona con gioia. Quando addirittura si può donare gioia vuol dire proprio poter veramente fare qualcosa per qualcuno. La gioia spero di averla un po' generata ieri sera con lo spettacolo e quindi siamo tutti felici.